Ragazzi, attenzione Cri, hai battuto il record. Sì, quando provai il massimale, tempo fa, decidi. Bene ragazzi, risveglio. Ieri sera siamo andati a mangiare con Cristian, Mariani e altri ragazzi al chilometro 431 a Silvi Marina. Abbiamo mangiato gli arrosticini di pecora. Diciamo che molto buoni, però al giorno dopo ti lascia un po' così a livello di pancia. Però dai, non male. Prima di lasciare l'Abruzzo, ovviamente, non posso non andare a salutare il Gran Sasso, no? Cosa ne pensate? Scrivetelo nei commenti. Guardate ragazzi qua dove mi hanno portato questi ragazzi, guardateli qua. Grandissimi, ma voi li avete mangiati gli arrosticini, sì o no? Allora ragazzi, finalmente ho trovato un sentiero, qui dai prati. Guardate qua che bello. Veramente stupendo. Andiamo a vedere dove è a Cristian, bella, 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 bella. Guardate che spettacolo, ragazzi. E ragazzi, salutiamo adesso il Gran Sasso. Ci voleva questo bel dislivello, una bella siesta su, tra le montagne. E adesso il bello dell'Abruzzo è che dalla montagna al mare. Spettacolo. Porca misera, è arrivato Cristian, però vuole la vendetta adesso. Il cronometro vuole vedere in quanto tempo le faccio io, 100 push up. Mamma mia. 3, 2, 1, go. 20. 2, 1, go. 3, 2, 1, go. 4, 3, 3, 2, 1, go. No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ce la facciamo, ce la facciamo Beh, ragazzi, scrivete qua nei commenti in quanto tempo li chiudete Glielo facciamo riparare a Cristian Lo riparli, Tri Non mi dire indietro Lo ritestiamo in riva al mare Tri, sei pronto? 3 3, 2, 1, via 30 40 60 60 70 80 90 90 10 56 56 12 Ragazzi, ha tirato su tutta l'acqua del mare Pazzesco, guardate qua Se attenzione, Cri, hai battuto il record Sì, quando provai il massimale tempo fa Feci 100 push Proprio in un minuto spazio Un minuto che lo dice Biaccino 59,8 Mamma mia 56 secondi Appena finito di allenarsi Lui, cosa hai fatto oggi di allenamento? Pull Quante? 850 850 trazioni ha fatto oggi Come le hai distribuite? Totale, volumi? L'ho fatto una scala Da 15 a 5 Per 8 round L'avete capito? 8 round da 15 a 5 Quindi 15, 14, 13 Quanta pausa utilizzavi? Da un minuto, da un minuto e mezzo A blocco A scala Quindi facevi 15 pull up Un minuto e mezzo Un minuto e mezzo Un minuto e venti Un minuto e quattordici Quattordici, tredici E invece tra i round quanto tempo tenevi? 4 minuti Ok, quindi avete capito Gli 8 round distaccati da 4 minuti Mentre un minuto e mezzo Ti faccio il capo la sicurezza Però vabbè Non so sicuro se ne erano 850 Qualcuno più, qualcuno meno ragazzi Erano oltre gli 800 comunque C'è stato un errore, erano? 880 Non 850, 880 ragazzi Avete capito? Calcolate anche voi 8 round Davvero un piacere Mi raccomando Io ti aspetto a Cantù Ti porto i saluti a Sergio Mi raccomando E noi invece ragazzi Continuiamo il viaggio per la Puglia Io ti ringrazio Ti ringrazio di essere passato Salutare E quando vuoi Qui Con te Verrò Verrò sicuro Davvero Cantù Ovviamente Sei mio ospite Ti ringrazio ancora per il regalo A presto Allora Pistana ragazzi La sfattiamo E ora Andiamo E qua ragazzi, Raffaele, dopo lo intervistiamo.